Vi saluto, sono molto orgogliosa di poter in questa sala ospitare per conto del laboratorio e del festival, il collega amico di Telehammer, che è professore ordinario all'Università della Sapienza di Roma. Hammer insegna da sempre alla laurea in matematica a Roma e insegna anche alla laurea specialistica un corso che si chiama Spazio e Forza e guardando il suo programma lui dice agli studenti che tratterà l'argomento come sia mutata l'idea di geometrica dello spazio e come alla formazione di queste idee abbiano contribuito le arti visive, la letteratura, l'architettura. E io aggiungerei il cinema. Perché sempre di questo si è occupato Michele Hammer nella sua lunga carriera di ricercatore, testimoniate da più di cento pubblicazioni e una serie di attività che lui ama chiamare di diffusione della cultura, che però hanno dato una pietra miliare per la divulgazione scientifica, matematica in particolare, e per la didattica della matematica. Michele Hammer è un matematico colto, appassionato, curioso, come tanti matematici e soprattutto molto creativo. I suoi numerosi libri e i suoi film, che sono veramente pieni di fascino, poi ne vedremo sicuramente un esempio, qui hanno realizzato un fortunato connubio tra scienza, arte e cinematografia. Sino all'ultimissimo sua pubblicazione, i numeri immaginarie, cinema e matematica. I suoi filmati hanno fatto un po' il giro del mondo e si è interessato, ha collaborato con mostre, convegni, attività di musei scientifici, appunto che hanno come mission, una parola che è oggi di moda, la diffusione della cultura matematica. Suoi filmati, le bolle di sapone, l'enigmatico mondo di Escher, Flatlandia, sono direi delle perle che coniugano rigore scientifico con grande sensibilità artistica e dove si intrecciano molto naturalmente e in maniera affascinante, arte, matematica, musica, poesia, letteratura, un circolo virtuoso tra creatività e immaginazione ma anche concretezza. Questi filmati lasciano affascinati chi li guarda, chi li vede, ma anche stimolano una grande voglia di saperne di più e questo è un grande merito per la diffusione della cultura. Nel 2010 è stato vinto il premio Viareggio per la saggistica e ormai da tantissimi anni, più di dieci anni, dal 97, M.E. si è inventato e ha, ed è promotore, di un appuntamento annuale che si svolge all'Università di Venezia, Foscari, un convegno a cui partecipano studiosi e anche studenti, sia italiani che stranieri, è un convegno che si intitola Matematica e Cultura e poi ogni anno in cui ogni anno viene pubblicato un libro con i contributi in cui si dibatte a livello proprio molto interdisciplinare i rapporti tra matematica, arte, poesia, letteratura, eccetera. Quest'anno si è da pochissimo chiuso il convegno che tra l'altro aveva un omaggio a Turing. Lascio subito la parola a Michele Emmer perché ci affascinerà sicuramente con la sua conversazione. Io volevo cominciare facendovi vedere due piccoli film, in realtà vi faccio vedere un pezzettino di questi piccoli film, il primo è del 1911, è un film italiano. Si sente? Poco, poco. No, si sente. Lo faccio vedere un pezzo a velocità a doppia. Lui, quell'altro bambino, è un bambino cattivo, è stato preso dalla guardia, la mamma l'ha impoverato, ma lui continua, in particolare vuole rubare il gioco delle bolle a quest'altro bambino e con la violenza ci riesce. Si mette a fare le bolle. Succede una cosa curiosa, la bolla gli dice qualcosa, dentro la bolla compare una scena. La scena è la mamma di lui, disperata, perché lui è cattivo. E allora il bambino vedendo quella scena ha dei dubbi, anche perché continua a fare un'altra bolla e la situazione si accava. La mamma è malata gravemente, ha perso la salute grazie all'impresa del figlio. che non c'è, è sparita. E la madre, nella bolla, muore. A quel punto il bambino si preoccupa sul segno. Adesso vi faccio vedere come va a finire, ma non potete aspettare di dietro fino. Adesso vi faccio vedere un altro piccolo film, che è di qualche anno prima, ed è di Méliès. La cosa curiosa è che hanno pubblicato in Francia dei DVD con tutti i film di Méliès. Questo non c'è. Se qualcuno ha visto il film Hugo Chiave, che in qualche modo vuole essere la storia di Méliès, ebbene, si sta parlando esattamente di lui. Allora, nel 1906, una cosa è molto diversa, qui è spettacolo, uno spettacolo. Ci sono tanti trucchi che poi in cinema non c'è da dopo. Passiamo al 1906. Méliès è inventato la dissolvenza. Il montaggio incrociato. E adesso vi entro in scena le corle. Grazie a tutti. Un po' come nel film di prima, che però è successivo, la cosa della Borla serve a Milias per far apparire delle teste, un film dura poi qualche minuto, faccio vedere solo un pezzetto, cambiare le teste dei vari personaggi. Il primo film di questi piccoli film parla di una tragedia, in fondo, e c'è un legame tra le bolle di sapone e la morte, o meglio la fragilità delle ambizioni umane, mentre nel secondo c'è l'aspetto, come dire, del divertimento e ovviamente c'è anche quello. E quindi io ho scritto qui da Vanitas alla piscina olimpica per fare una specie di somma della storia delle bolle di sapone che inizia in un periodo molto preciso. Ma prima di dirvi quando inizia la storia del bolle di sapone, faccio vedere intanto questa immagine, che è un'incisione francese del 1700, e che è servita a un fisico francese, Gilles Dejeune, a concludere la sua lezione, un po' avanti, quando gli è stato conferito nel 1992 il premio Nobel per la fisica. Il premio Nobel per la soft matter, la materia sottile, e in cui, tra l'altro, appunto, parla anche delle bolle di sapone. E alla fine della sua conferenza a Stoccolma, ogni premio Nobel deve fare una conferenza e poi viene pubblicata su Science, questo è appunto Science, ebbene alla fine della sua conferenza c'era quell'immagine di bolle di sapone. Insomma, questo per dire che ci sono molti scienziati che lavorano tuttora che lavorano sulle gambe di sapone, ma non solo, oltre agli artisti, gli architetti, i chimici, i fisici, eccetera, eccetera. Naturalmente, il bolle di sapone, come avete visto dai due film, sono anche un gioco, un gioco per i bambini, di cui tutti si divertono. Ancora oggi vedere un bambino che fa il bolle di sapone credo sia difficile non guardare. Quindi ci sono innumerivoli storie con il bolle di sapone. Ci sono persone che fanno spettacoli con il bolle di sapone, è capitato di farli qualcuno con uno dei grandi artisti del bolle di sapone, che è per Boe, che è di Barcellona, venuto anche al nostro paese varie volte. Però, in realtà, quello che interessa i matematici è un'altra cosa, un po' più piccola di questa. Allora, prima di dire, quando la storia comincia, cominciamo a mettere delle date. Una delle prime date è il 1871, in cui Jean Visele, l'autore della carne, che tra l'altro muore la sera della prima, compone una musica tra due pianoforti che si chiama Gé Don Phon e all'interno di Gé Don Phon c'è un pezzo che si chiama Boul de Salon. È probabile, e si può fare l'ipotesi, che abbia composto questa PS 1871 per una cosa più imprecisa che era successa a due grandi prima. Quindi, parlo qua un po'. Naturalmente, perché sennò non si capirebbe perché i scienziati se ne occupano, c'è tutta una storia scientifica e Lord Kelvin è importante in questa storia perché l'ultima cosa di cui parlerò è un risultato ottenuto pochi mesi fa, ancora non pubblicato, legato proprio a un problema che aveva proposto Lord Kelvin, quindi la Fia d'Ottocento. E che scrive questa frase, fate una bolla e guardatela con molta cura perché potreste passare tutta la vita a studiarla. Mentre un altro scrittore nordamericano, in un libro che credo non sia mai stato tradotto in Italia, in italiano, ha scritto, supponete che ci sia una sola bolla di sapone, immaginate di quanto potrebbe gustare. Allora, questa appunto è la Gidegen che tra l'altro mi ha mandato questa immagine che è del Settecento in Giappone in cui si vedono queste due bolle e perché in Giappone un pittore a un certo punto si mette a fare bolle di sapone. Beh, la spiegazione c'è perché a quell'epoca i Paesi Bassi avevano un enclave commerciale in Giappone e lui, il pittore, va a scuola per imparare la lingua e anche l'arte, va in questo enclave a studiare. È probabile che facendo questo abbia visto qualche quadro olandese di quegli anni perché la storia comincia esattamente in Olanda. Insomma, non si può essere certissimi ma è probabile al 90% che la storia di unici in Olanda. La storia delle bolle nel latte perché poi c'è la storia del sapone che è ovviamente precedente. Vi faccio vedere l'inizio di un film che ha avuto abbastanza successo naturalmente dal fondo dove aveva visto qualche anno fa ma non molto anni fa in cui i due protagonisti erano già abbastanza conosciuti ma sono diventati poi molto famosi. Siamo in Olanda nel 1665. Siamo in Olanda in Olanda e il film è una ragazza con l'orecchino in cui si immagina che questa ragazza che sta arrivando a casa di Pernero sta a fare la domestica e diventerà poi la modella per il famoso quadro. E questi i quattro ragazzini sono le figlie del pittore che stanno giocando a fare le bolle di sapone. A noi non è arrivato nessun quadro anzi devo dire che qualche giorno ho fatto una conferenza in cui c'erano degli olandesi mi hanno detto di dire fermi. Allora com'è che in Olanda a quell'epoca dei ragazzini giocavano a fare le bolle di sapone? Era un fatto straordinario? Era un fatto duale? Perché proprio figli di un pittore? Beh, non solo non era un fatto straordinario ma era un fatto al di tutto usuale. Ora cercherò di spiegarvi perché. Allora quando è che per la prima volta si vede una bolla di sapone in un quadro. Questi sono i figli del film. Allora questa è considerata la prima opera ma in realtà non lo è in cui compaiono le bolle di sapone nell'arte. 1594. E è voluto a chiedersi ma com'è che prima nessuno faceva le bolle di sapone? Beh, nessuno faceva le bolle di sapone per il banale motivo che non c'era il sapone. Nel senso che il sapone come lo conosciamo noi probabilmente arriva dalla Turchia che è proprio molto costoso si comincia a diffondere in Europa dove peraltro c'era anche una grande tradizione di non lavarsi c'erano le che dichiaravano pubblicamente di non lavarsi mai e cominciano anche a diventare meno costosi e gli anni sono quelli intorno all'inizio del 1500 e quindi è chiaro che una volta che arriva il sapone è immediato che vengono fuori le bolle di sapone ed ecco il motivo per cui a un certo punto nell'arte fanno irruzione immagini con bambini o punti che fanno le bolle di sapone però come nel primo piccolo film in questa immagine le bolle di sapone riprendendo l'immagine classica che riguardava bolle d'aria dell'acqua cioè l'uomo-pulla che riprende anche Erasmo da Rotterd anche tra l'altro era amico di un pittore che fa un quadro che si chiama proprio l'uomo-pulla e quindi vengono prese le bolle di sapone come simbolo della morte della fragilità delle ambizioni umane da cui anche il titolo in cui sevate in realtà però in realtà però qualche anno prima si erano già viste il bolle di sapone questo è il pavimento della cattedrale di Mallorca quando mi è capitato di andarci tre anni fa io ho visto sul pavimento queste immagini e ovviamente ho immediatamente pensato a questo sono andato nella biblioteca della cattedrale e con l'aiuto di due bibliotecari mi sono messo a cercare chi avesse fatto questa cosa quando e perché perché era abbastanza chiaro quella era la tomba comune dei Chierici all'interno della Basilica questa è la pagina in cui c'è descritto l'ordine che viene dato a un ignoto cioè il nome per costruire una bella lapide siamo stati abbastanza fortunati ma anche perché io sapevo che dovrà essere sicuramente dopo il 1594 se fosse stato prima sarebbe stato molto curioso infatti è 1596 quindi evidentemente le incisioni di Cossus dovranno essere molto diffuse tant'è che due anni dopo qualcuno sulla cattedrale in Marcellona piglia esattamente quelle immagini per fare questa lapide però ancora 20 anni prima c'è questo piccolo dipinto che sta a Amsterdam dove c'è scritto in greco Ponfos o Antopos cioè l'uomo è una bulla ancora prima e questo è il pittore tedesco amico di Erdogan o Rotterdam l'uomo bulla purtroppo non è stato restaurato di gente perché la bulla è già tanto si vede da qui e questo invece che è un vetro in una chiesa in Germania 1530 questo è un altro quadro di scuola olandese di cui non si sa l'autore vi faccio vedere solo alcuni perché sono centinaia dei quadri alcuni di pittori famosissimi Ramierino dei grandi pittori olandesi del Seicento come Netscher questo stava Netscher la galleria in Dode molti bambini in Olanda in Belgio nel nord della Germania si facevano fare il ritratto con oggetti che amavano e ce ne sono molti con i bambini con in mano la bolla e quindi in qualche modo comincia a separarsi l'idea della fragilità della vita umana dal gioco primo grande capolavoro del volo di Saturno nel 1651 dei riprendi autoritratto qui c'è scritto Vanitas Faritatum dall'Ecclesiaste teschio fumo fio di secchi eccetera e le bolle simbolo della fragilità ma come ha scritto Svetlana Albers che è la massima esperta del futuro nordese del Seicento in fondo ha anche una grande affermazione di grande ambizione visto che queste bolle sono lì da 400 anni Dosso Dossi 1530 il profilo della giugna la rigoria della fortuna altro quadro di David Bailey e poi Rembrandt che risponde anche alla domanda che ha posto Mark Quain quanto potrebbe costare questo dipinto di Rembrandt costato 9 milioni di euro era un quadro disperso poi in qualche modo è stato ritrovato in realtà non era disperso era del duco dell'Ikstestine che se lo teneva a casa non faceva a vedere nessuno e adesso il duco dell'Ikstestine si è convinto a aprire un piccolo museo a Pien e quindi il quadro è lì ma che c'entra in tutto questo la scienza molto probabilmente a fuori di vedere quadri a fuori di che hanno fatti vedere solo qualcuno a fuori di vedere bambini che giocano a fare le bolle qualcuno si è fermato un attimo e ha detto ma vediamo un po' di capire che cosa sono queste cose questo qualcuno non è uno qualunque ma è Newton nel 1704 Newton pubblica l'ottica e in due pagine sono dedicate al problema del colore sulle labie di sapone lui non ha la risposta ma pone il problema c'è poi un personaggio che entra in questa storia molto curioso ovviamente non è questo ma questo dovrebbe farvi dire in mente chi è il personaggio questo Marat che non è vero niente che si è stato ucciso nella vasca eccetera eccetera ma insomma David l'ha rappresentato così è che c'entra Marat in tutta questa storia Marat voleva farsi accreditare come scienziato ed è lui che traduce l'ottica di Newton in francese leggendo l'ottica di Newton si accorge del problema del bollo di sapone e vuole risolverlo tant'è che nel 1786 all'Accademia di Ruoc gli danno un premio per le sue ricerche sul colore sulle bolle di sapone anche se le sue conclusioni sono come di leggere qui sono come di un po' fantasiose questa è invece una lamina di sapone come dire fisica vera questa è la tavola di un libro di Bois dell'inizio del 900 perché all'inizio del 900 Bois comincia ad andare in giro per l'Inquilterra a fare conferenze sulle lamina di sapone allora la spiegazione è che ci sono lamina di sapone fatte da due lamine con l'acqua saporata in mezzo man mano per gravità l'acqua cola le lamine si assottigliano entrano con le frequenze d'onda dei vari colori e si cominciano a formare le lamine finché a un certo punto compare il nero vuol dire che la lamina è troppo sottile il primo che se ne è accorto è Newton e la lamina si rotta naturalmente i pittori continuavano ed ecco il secondo grande capolavoro che non è questo ma il pittore è questo che è Bulte Savone di Chardelle in cui esistono tre persone che sono state viste eccezionalmente tutte e tre alla grande mostra di Chardelle Palazzo di Diamanti a Ferrara al Chardelle come tanti suoi quadri interessa il gioco dei bambini vedete che c'è anche un tentativo di rendere il colore siamo arrivati nel Settecento ormai è il gioco dei bambini che interessa questa è una stampa satirica di Napoleone che dà al suo figlio il re di Roma tanti regni che non sono altro dei bambini di sapone e poi c'è anche questa stampa sempre di un'epoca in cui c'è il Papa che fa le bolle perché il Papa fa le bolle papali e la Repubblica Francese che gli rebuca siamo arrivati all'Ottocento questo è un caso di Chaplin distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale questo è un quadro di Couture che sta al Metropolito Museo e in cui in qualche modo ritorna se non proprio l'idea della vanità della fragilità della vita a una certa melancolio e poi l'altro grande capolavoro che è Manet 1867 che sta alla fondazione Gulbenkian a Lisbole si sa anche chi è il quadro di Manet ma non sta un paio di anni dopo perché non pensare che Biser ha visto questo quadro e compone la musica Bud de Savon ma solo gli anni in cui all'insaputa di Biseria e all'insaputa di Manet succede un'altra cosa comincia la storia della geometria delle larmi di sapone potrebbe sembrare una non si capisce bene cosa diavolo ci hanno da raccontare le larmi di sapone visto che il volo di sapone sono tutti uguali e poi altra questione vabbè ma noi in fondo che ce l'importano la geometria delle larmi di sapone è il problema che la geometria delle larmi di sapone riguarda anche le cellule riguarda tutti quelli materiali in cui la tensione superficiale è predominante e quindi non è affatto un problema grave ricordavo il premio Nobel dato al 5 de cento per la fisica e varie medaglie Fields almeno tre di cui l'unica italiana per la matematica proprio lavorando sulle superfici ora queste sono immagini di un artista americano che da molti anni fa fotografie di larmi di sapone in realtà hanno le fotografie che fanno un rischio un po' più complesso mentre questa è una foto degli anni 70 dell'Equip del famosissimo architetto tedesco tra gli otto oggi in pensione di cui vi parlerò e queste sono sempre fotografie di Bradley Miller in cui uno dice ma sembrerebbe una geometria molto caotica ci sono sì degli angoli abbastanza precisi però insomma se guardate questa immagine non c'è dubbio che questi sono angoli di 120 gradi allora uno dice ma è possibile io quando lavo i piatti faccio miliardi di larmi di sapone e le larmi di sapone fanno solo angoli di 120 gradi? no ma quasi facciamo un piccolo passo indietro qualche proprietà delle larmi di sapone anche se il sapone non c'era è già nota ai matematici greci in particolare ai matematici di oggi piace raccontare questa cosa che magari è anche vera che quando la regina di Dome come racconta Virgilio arriva sulle coste dell'Africa ha il problema di costruire la nuova cartagine va dal re del posto che si chiama Birsa e gli chiede di dargli la terra e lui gli risponde Taurino quanto posso circondare tepico cioè ti do quanta terra tu puoi circondare con la pelle di un buo i matematici immaginano che l'astuta di Dome abbia tagliato la pelle del bue le screscioline sottili facendo una circonferenza in questo modo otteneva la maggiore area possibile all'interno stesso discorso per la terra invadata Muzio Sciola in pregno e che lui con la rato fece i matematici pezzano la circonferenza e questa è la dimostrazione ogni tanto io lo faccio articolabile proprio una persona fisica che succede così ha pensato di avere un'idea di come realizzare il modello di UEA referendum con vera e bollo di sapore non ha trovato i finanziamenti in Italia è andato al Trinity College cioè ha scritto a UEA che è ancora lì in pensione ma è ancora lì per la sua equipe gli hanno detto di venire hanno fatto gli esperimenti questa è la maquette che hanno usato per incastrare le lamine di sapone e questa è l'immagine che loro hanno ottenuto che è la prima immagine che sia mai stata ottenuta nel problema di Lorchel un fatto con bene e buon esecuto questa cosa è successa pochissimo tempo fa novembre dalla scolazione l'articolo è stato accettato sui Philosophical Magazine Letter che è la stessa rivista su cui Lorchel in cento anni prima aveva proposto il problema Eugenio Gabrielli è messo come primo perché è il leader del gruppo adesso è tornato esibato la sua università voglio fare vedere qualche bibliografia poi per finire faccio vedere due minuti del mio film sulle donne questo è il libro delle bolle di sapone che è una storia che ha già dato molti anni pieno di immagini a colori per il quale appunto come cioè il prima ho vinto ma sottolineo una parola il premio letterario via legge nel senso che nella nella motivazione che non è ovviamente né un premio per la comunicazione scientifica né un premio per la scienza eccetera diciamo ma un premio letterario si sottolinea l'eleganza e la abilità dello scrivere se qualcuno di voi ha letto qualche libro di Melania Mazzucco lei era la mia concorrente si è un po' arrabbiata di aver vinto il premio letterario di via regio tant'è che l'anno dopo a sorpresa è stato fatto un premio letterario di via regio straordinario alla carriera ed è stato dato a Melania di via regio evidentemente era detto insomma anche io devo dire pensavo che dicesse meglio questo è il sito del mio corso in cui potete trovare se qualcuno interessa tutta la bibliografia non solo sulle bolle ma su tutte altre altre cose di cui si parla il cinema il teatro eccetera e questo è il mio mail questo è il sito del convenio di Venezia di quest'anno l'anno prossimo sarà il 2013 che non si svolge più a Caposcari io sono stato sette anni a Caposcari ma a Caposcari due anni fa ho pensato bene di chiedere 4.000 euro per usare l'auditorio anche a quelli cioè a Caposcari c'era un'usanza che è finita chi aveva insegnato per alcuni anni a Caposcari era membro di Caposcari per tutta la vita evidentemente questa usanza è finita e quindi abbiamo trovato l'ospitalità nell'istituto di scienze lettere e arti che è un palazzo meraviglioso e devo dire sono molto utile tutto questo vi vorrei far vedere per finire due minuti di un film sul mondo di sapone che tra l'altro come opera d'arte diciamo si è andata alla Biennale di Venezia nel 1986 in cui vedrete gli angoli molto da vicino con una macchina ad alta definizione e anche ad alta velocità non sono non sono non sono nostri scopi questi sono i due angoli il 120 e quell'altro il 109 il 9 vediamo ora alcuni modelli di minima energia cioè di massima stabilità per determinati contorni alla musica il balzo delle rose di Veda ecco il risultato che otteniamo immergendo nel sapone un contorno pubico questo invece è ciò che si ha se il contorno è petraedrico e in più si inserisce una bolla nel centro della struttura il colore come ha osservato Bois agli inizi del secolo in un classico lavoro sulle bolle di sapone dipende dallo spessore delle lamine saponate e dal tipo di sapone usato nel caso di un contorno di forma dodecaedrica otteniamo un'incredibile quantità di lamine saponate all'interno della struttura che creano effetti di luce fantastici di un'incredibile di un'incredibile di un'incredibile di un'incredibile se volete ancora due minuti come succede spesso nel cinema avevo preparato due finali e se avete voglia di vedere due minuti di un altro film è abbastanza divertente devo dire che a volte mi sono all'inizio che invece ho deciso di usare alla fine anche perché mi consente come faccio spesso anche qui come ho fatto stamattina di fare un omaggio a mio padre Luciano Ermero mio padre nel 1948 fece domenica d'agosto che è un assoluto capolavoro è tutt'oggi uno dei film che viene usato per insegnare gli migliori che studiano cinema come si fa il cinema e che tra l'altro fa nascere una commedia con diversi personaggi e diverse situazioni ad esempio Virzi è uno che ogni volta che fa un film ricorda il domenica d'agosto e tra l'altro è il primo film di Mastroianni doppiato da Alberto Sordi che sta facendo l'altro film mio padre si arrabbiò molto quando fece da Roma tutti i film di Mastroianni dimenticandosi cinque film che l'ha fatto un mio padre e da allora nacquero molti film in cui c'era vari personaggi alle volte le storie si incondigevano alle volte non le tutte i dipendenti e questo è uno di quelli nel 1954 si chiama Cade al commissariato e c'è una storia che ovviamente riguarda la rivoluzione che c'era a che c'era che c'era cittadini voi che mi avete seguito di vostra spontanea volontà voi cittadini ben saprete in quali tempi ci troviamo mentre in cui tutto si può dire e tutto si può fare mentre in cui non si sa che dire e non si sa che fare mentre in cui l'intrepida dettore diventa donna e la donna diventa capolare di giornata tempi in cui tutto è appeso un filo come un paloncino questo paloncino si chiama incertezza questi sono i nostri tempi o cittadini tempi incerti in cui da un momento all'altro può arrivare il fatto nuovo sotto forma di una bomba di un marziano sotto forma di un essere in forma attaccati perciò cittadino all'attimo presente attaccati ai tuoi piccoli momenti di libertà e di riposo alle tue illusioni che salgono fino al soffitto della tua dolce casa come vario pinte bolle di sapone cittadino non trascurare le tue bolle di sapone hai un momento hopperà hopperà ed è per questo che io vi dico per lei io ho i grandi litti cittadino questo è il vostro prodotto ai cittadini bolle di sapori palloncini con atti che salgono nel cielo come la vostra illusioni signori vi portate a casa a questo oggettino signori forzando la vodka sommare di ricetto non ve lo aspettavate? non ve lo aspettavate signori? cento lire soltanto cento lire che non me li faccio anche le stesse ma non ho la mia dolore ma riesce a lei a me metta a divario il solito a collega guardi io signori guardi io signori palloncini con atti cento lire signori signori dico cento lire e con questo io direi di fare un applauso io avevo detto che era un matematico colto se ci sono delle domande ecco io credo che anche questo finale ci ha regalato uno spaccato anche della personalità di Michela Emmer che si dice in una sua intervista dice fortunato per avere passato una giovinezza con questa famiglia anche con una madre di nazionalità non italiana e questo padre creativo che gli ha anche trasmesso questa voglia e questa curiosità ma anche questa profondità e la matematica che è sempre una scienza dura invece ce l'ha fatta apparire così leggera con le sue bolle di sapone e la sua musica perché poi alla fine non è così dura bisogna un po' spendersi è dura per questo perché bisogna spendersi ma lei non è dura vero? io volevo scusate dire una cosa volevo ringraziare che non sono di schiavone lei che è l'altra persona che era qui perché non c'era la possibilità di collegare il computer con il sonoro e che insomma ha capito bene che sarebbe stato un po' complicato e quindi lui aveva profondamente il cavo si è capito dove abbiamo bisogno di attaccarlo insomma quindi era possibile usare il sonoro se no era insomma stato un po' complicato quindi voglio ringraziare a tutti lo ringraziamo per la sua attività in questi giorni che è ovunque l'abbiamo visto con la sua macchia da presa e anche i suoi cavi ritrovati nella cassetta degli attrezzi vi ringrazio a nome anche di tutta l'organizzazione che in questo momento io rappresento indegnamento grazie 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 grazie